Giravano in motorino vestiti elegantemente, giacca bottonata e jeans. Nessuno poteva sospettare che fossero armati di tutto punto e pronti per assaltare qualche negozio. Ed infatti sono andati a rapinare due supermercati nello stesso giorno, con la stessa pistola e la stessa tecnica. Si tratta di Antonio Di Donato, 21 anni, e Luigi Sarnataro, 20. I ride lo scorso 23 maggio. In una perquisizione, seguita nell'abitazione di Di Donato, i poliziotti hanno trovato la pistola giocattolo e gli stessi abiti che aveva indossato quel giorno. Il giovane è stato anche riconosciuto dai testimoni. Il bottino complessivo delle due rapine fu di circa 1000 euro. I ride furono entrambi fulmine e i due giovani puntarono addirittura la pistola in bocca ad una delle due commesse per terrorizzarla. I due balordi decisero di rapinare il secondo supermercato, che è poco distante dal primo, perché insoddisfatti del bottino raggranellato nella prima rapina. Qualche centinaio di euro erano considerati troppo pochi, così i due hanno deciso per un altro assalto. Ad incastrarre però le immagini di videosorveglianza di uno e due supermercati, nei quali in alcuni frangenti si nota distintamente il volto dei due balordi. Le forze dell'ordine sospettano che abbiano commesso anche altre rapine. Le indagini però sono in corso. Grazie.